Il calcare che si attacca sulle cromature è un bel problema, perché ha un effetto erosivo sul metallo che accelera la corrosione. Se provi a toglierlo con una cera o una pasta, ritornerà prestissimo, perché non è termoresistente, resta solo in superficie e non ha effetto protettivo. Se adoperi una pasta abrasiva, successivamente saranno più rubide e soggette a maggiore accumulo di calcare. Se invece la togli con RS bianco, applicando il prodotto con la parte abrasiva di una spugnetta per lavare i piatti o con una lanna d'acciaio fina, togli l'ossido, il calcare o la ruggine esterna che può essersi formata. Ma soprattutto successivamente, una parte di RS bianco verrà assorbita dalla cromatura e impedirà la formazione di ossido per molti molti mesi con una sola applicazione. E tu non te ne devi più preoccupare. Offre anche un'elevatissima protezione dalla salsedine. RS bianco è un prodotto dalle caratteristiche uniche e brevettate, che non puoi trovare in nessun altro prodotto. Ha elevate proprietà sgrassanti ma non contiene corrosivi, e soprattutto successivamente ha una finitura protettiva di lunga durata d'effetto, asciutta al tatto. Non è una vernice e non si scrosta come una vernice. Assolutamente vietato applicare RS bianco con scotch bright, perché lo scotch bright toglie la cromatura e provoca un danno irreversibile. Fate attenzione ai prodotti corrosivi, perché inizialmente potrebbero anche avere un buon effetto e pulire abbastanza facilmente. La caratteristica però dei corrosivi è quella di continuare a lavorare e di danneggiare sempre più il materiale nel tempo, esponendolo ancora di più all'assorbimento di sporco e alla formazione di ossido, ma con un danno irreversibile. RS bianco lo puoi ordinare sul sito Black Traction e ricevere comodamente a casa, ma non lo trovi su piattaforme come Amazon. Sous-titrage Société Radio-Canada